Salve a tutti, oggi andremo a vedere come mettere questa piastra della valvola EGR cioè andremo a vedere come inserire la flangia per ridurre le emissioni di sporcizia che emette l'EGR nel collettore d'aspirazione mettendo questa flangia, avendo questi tre buchini, succederà che avremo una meno sporcizia dell'EGR di imbrattamento nel collettore d'aspirazione io l'ho questa da su ebay, poi pubblicherò il link, questa qui con tre buchini perché almeno posso inserirla senza avere alcun problema di spie sul quadro di avaria perché altrimenti se mettiamo quella completamente chiusa avremo l'avaria e la spia quindi se ne accorge la nostra centralina e la macchina non funzionerebbe e dovremmo per forza andare da un elettrauto e far scollegare, spegnere l'EGR se non volete fare tutta quella procedura fate come me, mettete una flangia con questi tre buchini e la macchina diciamo non dovremo fare nessuna operazione elettrica ma nel vantaggio che avremo veramente una veramente riduzione di sporcizia dell'EGR perché avendo solo tre buchini filtrerà veramente tantissimo lo sporco sempre meglio diciamo di avere leggera e completamente aperta che in poco tempo ci andrà a imbrattare il collettore aspirazione, aumenteranno i fumi e i consumi di carburante del motore e anche diciamo come prestazioni diminuiscono mettendo questa avremo una prestazione più performante e anche un fumo più diciamo meno oscuro, meno fumosità allo scarico per l'installazione vi farò vedere come procedere questa qui è compatibile per Alfa Romeo 147, 1009 GTD e GTD-M 8 valvole, 16 valvole, poi Alfa Romeo GT, Alfa Romeo 156 e anche altre versioni diciamo come Fiat Lancia che montano lo stesso motore, 1009 GTD o 1009 Multijet andiamo a vedere come procedere con l'installazione la prima cosa, io prenderò una chiave da 10 e toglierò il coperto del motore slendando queste 4 viti da 10 io prendo una chiave a tubo lunga così sarà più comodo andiamo a allentare le 4 viti il motore in questione è un 1.9 GTD-M 120 CV a 8 valvole sul 16 valvole diciamo la procedura è quasi identica ma potrebbe cambiare forse dove si va a inserire la flangia però più o meno è la stessa dovrebbe essere quasi uguale però su alcune versioni potrebbe succedere che cambia la posizione dove va posizionata toglieremo il tappo non verrebbe fuori il coperchio rimettiamo qui ok adesso dobbiamo metterla qui in questo punto qui quindi dopo aver tolto il coprimotore il coperchio di plastica qua sopra tolveremo queste leggi r e questo è il tubo che va ad immettere i gas di scarico sporchi nel collettore aspirazione questo è il corpo farfallato che dopo lo manda nel collettore questo qui noi dovremo mettere la flangia in questo punto dopo subito dopo le GR qui allentando soltanto queste due vitine qui da brucola e vi dirò qual è adesso vendiamo queste mettiamo tra le GR e il tubo che troveremo dopo una piccola diciamo guarnizione in metallo quella la togliamo e a posto di quella ci mettiamo la flangia ora andiamo a procedere vi farò vedere per lo smontaggio e l'installazione della flangia allora adesso prendiamo una chiave brucoletta da 6 allentiamo le due viti una qui e una qua sotto andiamo a togliere queste due viti una un'altra qui e togliamo completamente facendo attenzione a non farla cadere con la rondella anche ok quindi adesso dopo aver tolto le due viti prendiamo la flangia nuova e la inseriamo qui in mezzo facendo combaciare i due buchini con la piastra dove ci sono i fori e le viti di qua i buchi delle viti la inseriamo prendiamo una vite prima la mettiamo qui in contemporanea e inseriamo la flangia prima faremo fare montare un buco e metteremo la vite in modo che non ci cade la flangia così guarda ecco avviteremo un po' ok adesso metteremo qui in mezzo la flangia in questo modo e ora ci rimane soltanto da avvitare così facendo combaciare i buchini con la vite e avviteremo di nuovo la vite della piastra dopo aver avvitato rimettiamo il coprimotore e la procedura è terminata alla prossima e avvitiamo e avvitiamo e avvitiamo Grazie.